Successo, ma anche polemiche. Così si può riassumere l'esito della undicesima edizione della Stracosmopoli, gara podistica che si è svolta domenica 10 agosto a Portoferraio. Ancora un record di partecipazione, dicono gli organizzatori. Tantissimi, oltre 100, sono stati gli atleti locali ed ospiti dell'Elba a cimentarsi sul percorso duro ma spettacolare. I ringraziamenti vanno alla società atletica Isola d'Elba che l'ha organizzato e al comune di Portoferraio che ci ha permesso, dicono, il passaggio all'interno e lungo le mura del Forte Falcone in uno scenario affascinante e suggestivo. La gara per la cronaca è stata vinta dal podista romano Gianluca Calfapietro, mentre fra le donne la vittoria è data a Ivanna Fedorak della atletica Isola d'Elba. Dopo la cronaca però cominciano le polemiche, già nel comunicato stampa riassuntivo firmato da Adolfo Tirelli. Bellissime le premiazioni, si legge nel comunicato. L'unico appunto che si deve fare è stata la mancanza del delegato allo sport del comune di Portoferraio a presenziare alle stesse e l'apertura della calata alle auto alle ore 19.45, con una cinquantina di concorrenti ancora sul percorso. La polemica sulla chiusura del traffico ha avuto inoltre un ulteriore strascico anche sui social network. È mai possibile, si legge sul profilo Facebook di Sergio Marianelli, che si impedisca agli abitanti della parte alta del centro storico di Portoferraio di poter rientrare nelle proprie abitazioni se non dopo le 20. È giusto fare le manifestazioni a Portoferraio perché ne ha tanto bisogno, ma bisogna anche valutare gli aspetti negativi che questa ordinanza assurda ha creato a noi cittadini. Nel piazzale antistante ai Giardini delle Ghiaie, dice ancora Marianelli, c'erano una cinquantina di persone che hanno aspettato per ben due ore, fra queste una signora anziana, quasi novantenne e numerosi bambini, e queste persone avevano bisogno di fare i propri bisogni fisiologici dopo una giornata trascorsa al mare o con gli amici. Io spero caldamente, conclude Marianelli, che nel prossimo futuro si possa trovare una via migliore per una scelta che metta d'accordo i cittadini e le manifestazioni.